Quali sono i sintomi del cancro dell'endometrio? I sintomi del carcinoma endometriale comprendono sanguinamento mestruale prolungato o sanguinamento nei periodi intermedi, sanguinamento che si verifica dopo la menopausa, perdite vaginali anormali non sanguinose e perdita di peso non intenzionale. Inoltre, il dolore pelvico, l'affaticamento e la debolezza possono essere anche sintomi di cancro dell'endometrio. Conosciuto anche come cancro uterino, il cancro dell'endometrio ha una migliore percentuale di guarigione quando diagnosticato precocemente. È estremamente importante segnalare eventuali episodi di sanguinamento anomali o dimissioni dal medico, in modo che possa iniziare una valutazione medica. Tipicamente, i sintomi del cancro dell'endometrio imitano altre condizioni ginecologiche meno gravi come fibromi uterini o polipi, infezioni vaginali o squilibri ormonali. Inoltre, anche se il cancro dell'endometrio è una malattia che si verifica generalmente dopo la menopausa, può verificarsi a qualsiasi età. Alcuni fattori di rischio possono predisporre una donna a sviluppare il carcinoma endometriale, compresa l'ovulazione irregolare, non essere mai incinta, l'inizio precoce delle mestruazioni e l'obesità. Inoltre, la terapia sostitutiva con estrogeni, il diabete e una dieta ricca di grassi possono anche aumentare il rischio. A volte, le donne che hanno una storia di cancro alle uvaie o al seno possono essere ad aumentato rischio di cancro dell'endometrio, così come le donne che hanno assunto il farmaco tamoxifene. È importante che le donne sappiano che l'assunzione di tamoxifene e la terapia ormonale sostitutiva possono anche produrre sintomi di cancro. dell'endometrio come sanguinamento irregolare o intenso. Le donne, tuttavia, non dovrebbero presumere che i loro sintomi siano correlati a farmace o ormoni e devono consultare un medico per determinare la causa dei sintomi. In genere, quando si manifestano i sintomi del cancro dell'endometrio, il medico può raccomandare test medici come un'ecografia transvaginale, che può dimostrare lo spessore dell'endometrio. Questa procedura può anche determinare se il sintomi sono correlati ad altre condizioni meno gravi. Se il medico ha bisogno di ottenere un campione cellulare di tessuto endometriale, consiglierà una biopsia endometriale, che può determinare se le cellule maligne sono presenti nell'utero. Questo test può essere leggermente scomodo e produrre sanguinamento post procedura. Il trattamento per il carcinoma dell'endometrio o dell'utero potrebbe includere radiazioni, chemioterapia o terapia ormonale, che può scoraggiare la diffusione delle cellule cancerose. Inoltre, a volte viene indicata un'isterectomia per rimuovere l'utero e il chirurgo potrebbe anche voler rimuovere altre strutture come le ovaie, le tube di falloppio e la cervice. La chirurgia è generalmente il metodo più efficace per garantire che la neoplasia sia stata completamente sradicata. Questa procedura, tuttavia, impedirà a una donna di rimanere incinta in futuro.